dentro di cattiveria, bene così, mamma mia, e il primo ce l'abbiamo la eccoci ragazzi bentornati, seconda gara di campionato open class categoria S scusate, e siamo a Daytona, anche qui partenza lanciata qui possiamo sfruttare tutto il nostro motore prima dentro, e occhio aggrutto capite? cioè, io non so più che cosa dire e si comportano come se noi non ci fossimo ora così ora abbiamo pochissimi tiri per recuperare ragazzi dobbiamo stati attaccati per poter sfruttare le scie altrimenti questi se ne vanno giù tutto adesso, senza paura mamma mia come ci avviciniamo pericolosamente all'esterno occhio qua che loro fremeranno tanto come li conosco sti polli andiamo via così occhio qua che in frenata ci allarghiamo, è brutta non fatta perfetta però neanche malissimo è che siamo quindi, dai, ce la possiamo fare tutto all'esterno tutto all'esterno ci prova? non ci riesce? incrocia? niente da fare stiamo lì vicini? bene così dentro, bravo e adesso in scia andiamoci lì a prendere largo io qua sono arrivato troppo veloce abbiamo possibilità andiamoci più dentro qua andiamoci più dentro qua andiamoci più dentro qua darti un po' però ci siamo fatti sotto oi frenano qua dentro di cattiveria bene così mamma mia e il primo ce l'abbiamo là a portata dobbiamo star lì sotto quello qua ce l'abbiamo è nostro dobbiamo solo bollire un pochettino dentro qua eh volevi stronzone e lì sei e lì rimani ci siamo presi il primo posto con le unghie e con i denti avanti così adesso non sbagliamo così si passa a essere coglionazzi buona così ragazzi ci siamo portati a casa il primo posto di Daytona e la prima vittoria del campionato ben fatta godiamoci il podio e questo primo posto a Daytona tutto nostro Niccolò Cappi dice grandissimo Ramon grazie a tutti